bene abbiamo iniziato la sessione di milo benvenuti conto da 5 a 15 4 3 2 1 come lo vedi lo vedo molto molto centrato molto presente molto forte lo vedo molto cosciente di quello che fa e di quello che muove delle sue intenzioni quindi quello che che mi fa vedere è che lui sperimenta per vedere come può muovere le energie ok ti direi che quasi sempre sa perfettamente cosa sta facendo quando muove le energie ogni tanto ha qualche dubbio ma in realtà è solo un suo dubbio perché io vedo che c'è nete ricolo vedo con intorno tutti i suoi strumenti che sono valiti sono energia che può essere con un'onda più stretta oppure con un colore più luminoso ok mariano e lui lo utilizza e poi guarda l'effetto ma sapendo perfettamente che quell'effetto lì non lo non lo travolgerà quindi riesce a vedere come funziona in maniera obiettiva senza falsi travolgere e quindi in grado di fermare di chiudere ogni volta che ne ha voglia ti dà l'autorizzazione se vibrazione 128 miliardi percentuale di consapevolezza 201 psp 48 52 cervello 10.7 ok oggi ci divertiamo chiamiamo nel cinema tutto il clan più fidanzata che non vive con te giusto no vive con te anche anche la fidanzata e se c'è la fiamma sì c'è se c'è la vedo molto vicina nel senso la vedo non è la fidanzata quindi no però mi appasso riguardato bene per esser sicuro no quindi aspettando un attimo in girata poi riguardato tre quattro volte è una persona che lui conosce bene abbastanza bene direi poi stress a psp se dimmi tutta la famiglia la conosce se ma è una ragazza una donna se potrebbe avere più o meno tipo cinque anni in più di lui mi viene così a vedere queste informazioni sono da prendere ovviamente con le messe certo elena aumentale come tutte le donne e tutti gli uomini di questo pianeta che incide nella visione cioè uno mette del del mentale senza il mentale saremmo buttati li persi senza ne riuscire neanche a esprimere un concetto in parole quindi mentale non è un nemico è una brutta bestia da gestire ma se la si gestisce bene lavora per noi e non noi per lui attenzione non ne siamo schiavi non ne siamo soggiogati malattia mentale entità mentali collettive alcuni sono soggiogati hanno malattie mentali magari non lo sanno nemmeno non è ovviamente questo il caso bene è una ragazza quindi ok viene nel cinema ok cosa fa con i genitori di milo che sono nel cinema 7 senza di fianco a loro si conoscono si stringono la mano si salutano che succede se si danno un abbraccio ok la ps è uguale lei a quanto sta di vibrazione 21 miliardi quindi più bassa se che non ti ho chiesto le vite precedenti non so perché 239 davvero 239 solo non lo vediamo mai come dna di milo umano sì sì ok esprimiti allora no no stavo guardando bene per spiegartelo bene nel senso non andiamo a vedere quindi non ti so dire però ti descrivo quello che vedo è molto luminoso nel senso che è luminoso illumina e allo stesso colore della ps diretto ecco voglio dire questo particolare che mi è proprio arrivato illuminante cioè illumina le cose che ha intorno se cosa stai illuminando adesso illumina tutta la parte interna di milo è come se ci fosse un posto no all'interno che io potrei dirti che la sua parte emotiva ecco come fosse 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 una stanza all'interno di milo che rappresenta la sua parte emotiva e in questo momento sta illuminando questa parte qua chiama il trap l'archetipo genero musicale nuovo la trappola l'ho già visto prima però adesso ne ho la conferma dice direi che diciamo l'anno la nuova che tipo che delle nuove generazioni che sostituisce quello della quello che abbiamo visto ieri penso fosse quello è l'art iro metal di metal se ho già visto prima adesso adesso no è proprio chiaro quindi diciamo per prendere tutte le generazioni nuove fare la stessa cosa c'è trap cause sottorica del fatto che viene coinvolto in un progetto di questo tipo ma poi abbandona lui dice che non sentiva le giuste energie nonostante fosse molto allettante per un discorso di economico e soprattutto artistico ha lasciato stare diciamo che fanno il meccanismo è sempre questo c'è per diventare famoso devi sottostare delle regole un po del state sì esatto volevo se sessi deep state troppo delle regole come si può dire animali e animalesche cioè insomma brutali brutali ecco e invece a proposito di animali la l'introduzione a un gli hanno proposto di iniziare a proporsi al pubblico con un discorso collegato non si sa bene in che modo agli animali perché è quello perché attira c'è con la musica e le immagini era il meccanismo e il meccanismo che utilizzano per agganciare le menti delle persone ok poi lui magari all'inizio gli ha detto sì ma devi fare solo i video far finta e poi pian piano per rimanere così avrebbe dovuto fare comunque tutto ciò che sappiamo che fa al deep state con cantanti no con tanti e gli artisti quindi vari riti sempre più sempre più pesanti ecco secondo universo se c'è una linea temporale in cui milo percorre questo percorso questo è capito sì mano come musicista come attore sempre un po sul stesso stile ma come attore e di fate accetta si accetta di accetta sette universi in questo multiverso e siamo nell'uno con versione in quale si trova questo milo attore è che accetta il compromesso 33 3 con che esito allora lì la primo step secondo accetta secondo step e poi quando gli propongono il terzo lui rifiuta quindi va in quel posto dove fanno fanno finta che muoiono e li mettono sai è come se li mettessero in una teca in un posto dove stanno i personaggi famosi se è il terzo step che lui rifiuta cosa comportava iniziavano sacrifici umani 239 vite questa è una di quelle se direi 238 torniamo sulla fiamma hanno previsto di incontrarsi e di come dire fare un percorso di fiamme insieme io li vedo molto molto fiatati come se mi apparissero tanto tanto amici come se si conoscessero fin da bambini non so quest'idea quindi mi lo scrivimi nella chat hai delle idee a proposito a di sì dimmi dimmi brancoli nel buio o hai un'idea così riesco a sfruttare meglio la situazione non prendere sempre cinque anni più di te come una legge qualche anno più grande di te può anche averne 10 può anche bene un messi può anche avere la stessa età ho capito non è una legge dico che bionda e vabbè ma il nome non parte che non vorrei dirlo comunque è delle idee diciamo ok la prima e la seconda la seconda soprattutto quanti anni ha più di te uguali perché già hai messo il tuo nome ma dire anche il nome di questa persona ok comunque hanno deciso se la compagna è un'anima gemella no niente di tutto questo no 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 non è un anima fine vedo che non è che proprio non vadano d'accordo però non è anima fine non hanno la pie simmetrica come le vieto no complementare ok ecco ecco abbiamo chiamato il trap chiamiamo l'archetipo della musica milo musicista cantante a 360 gradi compositore esecutore ecuzione già in ambito esecuzione in campo produzione fa tutto causa esoterica di questa parte colare predisposizione verso la musica origini allora sì sì te lo dico è mai arrivato proprio l'immagine lui ha imparato in una vita a unire la musica con le capacità alchemiche allora in eterico io vedo che lui allora è come se quando fa musica dipingesse un colore in eterico e a questo colore gli abbinasse un energia di alchimia che lo rende concreto nella materia quindi vedo arriva la lui la musica quindi un colore metti il verde adesso non arriva al verde e lui con l'altra mano prende uno strumento alchemico ok è come se glielo mettesse sopra e questo verde diventa solito diventa una forma diventa in questo caso uno di quei vasi con il con l'apertura molto fine sotto più largo per esempio crea ha avuto un passato in passato avuto una vita precedente musicista allora no era alchimista si ricordava le cose alchemiche dal da una vita prima e quindi lui se ne ricordava ma come se li fossero limitate e non riusciva ad esprimerle a un certo punto ha iniziato a avere a che fare con la musica ma non come lavoro c'è ha conosciuto questo grande musicista lo vedo nel posto dove viveva ok è come se si fosse lasciato trasportare e pian piano negli anni è riuscito ad abbinare le due cose e questa cosa qua in questa vita se la c'è viene spontaneo circolamente non se la ricorda ma gli viene spontaneo cioè è probabile che lui quando fa qualcosa di alchemico senza che se ne accorga nella mente suona una canzone una canzone una melodia o delle note e viceversa adesso esatto adesso quando suona una canzone produce qualcosa del chimico ma esatto in eterico vedo proprio che diventa concreto quindi direi nella nella matrix manda un messaggio a chi lo ascolta la vibrazione ok e lui la coltrap sentiva che questa cosa non erano le brune era una creazione non c'era no sentiva che andava sulla parte oscura direi strumenti che suona qual è il migliore per lui violino allora perché vedevo qualcosa ho provato a mettere con la batteria no poi il sax no poi il pianoforte no chitarra no però era molto simile alla chitarra violino cioè io lo vedo benissimo tipo col violoncello che è più grosso ma so che va bene è stato un alchimista oscuro come gli hanno previsto in un trattamento ipnotico quella vita l'alchimista che visto o la precedente da cui provenivano le informazioni e le conoscenze è quella di un alchimista oscuro cioè al servizio al servizio di entità oscure eh no c'è allora non non lui ha imparato a usarla talmente bene che la usava sempre quindi poi vedo in quella vita lì qualcuno se ne ha approfittato diciamo raggirandolo ok quindi senza farlo volontariamente ma involontariamente alla fine ha fatto delle cose di alchimia oscura perché lui è in grado di usare l'energia al chimica 360 gradi quindi perché questa persona gli ha detto così allora perché lì l'ha fatto ma senza che lui lo sapesse come se arrivi tu da lui gli dici gli chiedi mi puoi fare non so bisogno di una ne so di un aiuto per farmi passare che ne so dermatite la sto sparando così è questa persona che arriva però lo fa ma la fede quindi magari attraverso quella cosa vuol far del male ma lui non lo sa e lo fa quella vita la lo faceva messaggi e tatuaggi di stampo massonico a un certo punto inizia a farsi dei tatuaggi fiat lux che sia e sia la luce diciamo che è un po come ha fatto con la chimia oscura in quella vita lana quindi quella la sperimentazione che vedevo all'inizio lui fa per vedere come si muove l'energia poi riesce a starne distaccato no quindi a lui quel tatuaggio di non far niente a meno che lui non voglia dargli attivare quell'energia particolare ok però se lui li usasse come messaggi per le altre persone allora lì attiverebbe quell'energia di massonica si e fiat lux queste due parole scritte molto molto grandi molto impattanti è come se lui le possa è come se lui le può attivare no quindi se le attiva verso qualcuno a quel qualcuno gli arriva l'energia di quelle scritte con l'energia massonica quindi apre vedo che come se aprisse un canale dell'energia lì può non succedere niente di che nel senso magari finisce lì e energia poi dopo un po si chiude e si dissolve oppure può far sì che questa persona venga si si colleghi all'energia negativa dei massoni ecco perché l'ho fatto ecco in generale consciamente ce l'ha spiegato inconsciamente deve supera deve vedere fino a dove arriva come se dovesse sperimentare di persona cosa sente con quell'energia lì ma sonica però poi lui è in grado di chiudere quindi poi quel tatuaggio di diventa neutro per lui se ok idem i vari tatuaggi con chimere e felinoidi e tutto quale quindi inutile descriverli tutti uguali no vedevo quei due la che ha fatto così senza se c'è quasi il paradigma quasi il contrario la pistola ecco quei due lì avendoli fatti un po così hanno aperto dei canali energetici ma senza putano quindi è come se agissero da dietro con lui no non che entità allora quello che acqua con una mantide è come se gli arrivassero dei messaggi che poi lui apre il canale e lei ciuccia e l'altro c'è un falco di forme dietro fa più o meno uguale però un po meno diciamo sotto lo c'è la mantide più ammagliante no quindi va bene vediamo le identità metteriche tutte è come se si agganciano e letti e ricche come se non riescono a stare attaccate a lui io ti direi che sai cosa che mi lo è una perla ci stavo pensando dall'inizio quindi non gli stanno attaccate si attaccano con alcuni canali per esempio a volte con quei due tatuaggi gironzolano intorno se gironzolano intorno quindi diciamo in parte la mantide in parte falconi forme ci sono in parte dl allora dl vedo che ha l'entità mentale collegata alla cannabis collettiva però lui lì si si apre con una città mentale di livello 5 ok quindi vedo questo dl che è collegato a di me aspetta è che sono deconcentrata scusa per secondi allora si ok è collegata a allo stesso falconi forme che ogni tanto si collega al suo al suo tatuaggio di tale mentale di velo 5 che si collega l'entità mentale collettiva grazie al falconi forme e a un edl cannabis veramente a linea quello ce ne c'è un'entità mentale di livello 1 che carino lei livello 1 ci c'è voglio sapere tutto della livello e lei tipo una scolata è quella che ogni tanto gli mette il dubbio che forse ma magari non riesco sei proprio quella che vedeva all'inizio no che gli dava ogni tanto quell'incertezza ma sto facendo giusto ma proprio sei appena accennata così poi poi c'è allora c'è un'entità eterica che rimane all'intorno che è quella sembra la forma di un grigio potrei dire allungato no quelli allungati così sono grigi ok allungato che è collegato a satana che quello cosa che è un'antità mentale non ho un'entità eterica interna mentale collegata a lui o sempre che entra esce entra esce ok satana è collegato questo questo qua lungo che parla di satana non posso più satana is the new pleiadiani il testimone infetto quando c'è satana arriva uomo energia certo basta dove poi così milo non lo sa dopo ti spieghiamo comunque quando sarà pubblicato questa sessione probabilmente c'è già stato uomo energia il nuovo supereroe di questi schermi come energia è un uomo fatto di energia ad eternum e nasce e vive solo per abbracciare le persone o le entità che in noi gli indichiamo quindi saltano di nuovo bisogno di un grande caldo abbraccio di via via di teddy bear abbraccio ax free ax che scrivici la situazione uomo energia in azione allora gatto in azione uomo energia in azione vai mentre sta vicino sbarra satana sbarra gli occhi come per tiro dio di nuovo ok mentre sta vicino poi diventa più piccolo quindi perde già energia solo dallo spavento allora lo abbraccio inizia abbracciarlo e praticamente vedo che sporge dalle bra dalle braccia energia solo la testa così no come se fosse così tutti diciamo le sembianze qua e due corni pian piano cambiano colore diventano colore di vibrazione no quindi inizia a friggere essere lì che friggi quindi vedo solo ormai la testa perché il resto è piccolo ed è tutto abbracciato quindi non si vede frigge e adesso pian piano vedo proprio che dalla la figura no perde forma piano piano diventa sempre più minuscolo e poi cade a terra ok questo è il nostro nuovo transumanesimo energetico ci stanno spingendo verso il transumanesimo noi inventiamo il transumanesimo energetico creiamo dei personaggi robotosi energetici che usiamo anna alla bisogna il povero fu satana che era collegato comunque a quello che ancora esiste no servino è collegato alle perversioni diciamo sessuali di milo ogni tanto lui immagina durante l'atto con la sua fidanzata che la sua fidanzata sia in alternanza o diavolo o aliena erano che la cosa prende molto più foga l'atto prende molto più foga era lui se è praticamente si alternava tra grigio e trasata quindi il grigio l'alieno saltano direttamente a volte direttamente ecco quindi la perla ha sperimentato anche questa cosa se ok causa esoterica della confusione che ha nei confronti dei degli altri bassi che ha la sua attuale relazione non ci vedo proprio tanto una causa esoterica ma più un proprio un nole speri l'esperienza di coppia che a lui la sente molto profondamente quindi quello che posso dire che proprio ci mette tutto se stesso no e quindi come se volesse andare a fondo nel capire che cosa sente come mai la sente così però la vedo proprio come un percorso naturale direi a volte non per forza la persona che è di fianco è quella che sarà per sempre diciamo quindi mai esperienza puoi imparare quello che ti fa stare bene quello che invece ti fa stare meno bene la marioana già abbiamo visto una entità mentale collettiva si chiede se sia un'interferenza o se sia la ps visto che crea molto bene sotto l'effetto allora quello che vedo io è che si aprò un canale enorme ok quindi se c'è un minimo di vibrazione bassa arrivano delle c'è chi viene succiata l'energia la sua energia vitale che quindi vabbè lui è bravo a schermare perché essendo perla sa come fare però in alcuni momenti capita che gli venga associata l'energia da questo grosso canale che apre ma lui diciamo in ambito artistico musicale può ha bisogno della marioana per creare no non lui crea lui crea con l'energia dei colori della musica e l'alchimia che gli viene spontaneo quello che riesce a questo è come se l'entità mentale della marioana le facesse credere che ha bisogno della marioana per togliere le altre entità mentali che in realtà c'è quella di uno è la uno che magari gli dice ma sei sicuro che riesci da solo però c'è tutto un circolo no l'entità mentale collettiva marioana lo convince che lui senza la marioana non riesce poi da quello che vedo è che fa sì che sia anche piacevole quindi uno fa fatica a staccarsi no investito sulle strisce pieno periodo trappo causa esoterica allora ci sono stati molti momenti in quel periodo lì dove le sue vibrazioni erano basse perché tutte le volte che riuscivano a convincerlo che fosse quel progetto gli interessava le sue vibrazioni c'entrava in quella vibrazione di quindi si abbassavano parecchio no e quindi a una volta che aveva le vibrazioni molto molto basse sono riusciti a fargli un abduction ok quindi durante l'incidente ha fatto l'abduction col tentativo di mettere un impianto lo vedo tipo qua vicino l'anca destra serie a cadestra più o meno ho provato a mettere l'hanno messo ma la sua ps per la neutralizzata immediatamente poi è stato tolto vediamo anche gli altri impianti che ci sono non ci sono è come c'è tutte le volte che ha avuto impianti nella vita poi è successo così che sono stati di qualche giorno due tre giorni e poi la sua ps sa come eliminarli quindi va bene abbiamo visto i punti chiamiamo tutte le 300 perle sono solo 300 o sono aumentate diminuite tu sai che sono le cose sono le perle vero milo l'hai vista con la sessione sì no ok infatti non ti vedevo così particolarmente spieghiamolo rai elena allora elena alla lavagna allora durante appunto questa sessione ho visto questo ragazzino che aveva questa ps particolare quindi una ps vado a riguardarla è come se avesse più strato dove lo strato esterno rimbalza tutte le interferenze o che quindi arrivano proprio vanno via senza che neanche se ne accorga ogni tanto capita che riescono magari a incastrarsi su questa parete ma dura qualche ora giorni e poi la ps riesce a rimbalzarle fuori di nuovo quindi diciamo le perle abbiamo chiamate ps delle ps perché sono in grado di non farsi interferire a lungo una nuova formale di parte subliminale che arriva a specie supereroe della passione alle chi arriva qui con la capacità di non essere interferito quindi ferita quindi con la capacità di fare tante esperienze come quelle che stai facendo tu tatuaggi così un po un po importanti sulla pelle mario anna di fatto nessun risultato sperimentazione di vario tipo fino ad arrivare appunto a un punto di non ritorno l'avventura del trap a quel punto tutti i tiri indietro ma lo fai da solo senza dicono così senza il consiglio senza il guru senza il maestro senza non so che cosa che cosa ci sta a fare qua una perla questa potrebbe essere la domanda beh a dare a tracciare il solco e dare il segno di quella che deve essere la direzione il gioco è stato difficile finora adesso deve diventare facile per fare un salto evolutivo tutti insieme ok e allora scandagliamo il la novità della giornata perla più fiamma accanto è che in questo momento non è la fidanzata magari non lo sarà mai questo dipende da milo se la vede un po in lui ma è una perla anche la fidanzata c'è anche la fiamma sono andata a guardare quella cosa perché la piazza è la stessa quindi è come se quella parte lì non lo impara di conseguenza no quindi spiegatelo io vedo no cioè se guardo le due persone vedo le due messe di sfere che questa che ce l'ha naturalmente diciamo c'è tutta una parte che ps c'è quindi lo scudo ok inconsapevole e questa è come se il messaggio gli arrivasse man mano durante gli anni della vita quindi magari l'interferenza entra c'è alla fine succede uguale ma è come se un milo non se ne accorge per lui è naturale invece l'altra persona se ne accorge che cambia cioè quindi sente l'interferenza poi non la sente più diventa perla se adesso è perla dopo pochi anni dalla nascita poi assimila questa cosa come se questo guscio questo scudo esterno a avvolgesse anche tutta la crescesse anche dall'altra parte e avvolgesse tutta la chiesa e cosa succederebbe se due perle e fiamme si mettono insieme allora un po come le fiamme quindi anche le fiamme si hanno le interferenze ma anche lì durano poche ore no poi vengono buttate fuori però è come se anche l'altra parte quindi che ne sono interferenza arriva milo l'altra parte la sente e la manda via se senza neanche accorgersi quindi sulle interferenze che provano ad entrare cioè non rimangono sulla parte di una persona ma poi possono andare indifferentemente su tutte le due persone senza provare spiegare in un'altra maniera c'è magari mi lo sta facendo una cosa arrivano interferenza che vuole interferire milo è come se potesse andare anche dall'altra parte della dell'altra fiamma ok quindi invece che interferire milo interferisce la parte dell'altra fiamma ma quando arriva viene mandata via dall'altra fiamma dall'altra parte se sono riuscita a spiegare bene diciamo quando uno ha delle capacità e l'altro no si supportano uno con la sera ecco sì esatto c'è indifferente nel momento diciamo che mi lo potrebbe supportare l'altra persona che è un po più indietro mi sembra di capire ma questo non significa che sia così anche in futuro ok vediamo c'è una linea temporale in cui milo tra un po si mette con la sua fiamma c'è una linea temporale dove sono già insieme ok e che succede milo cosa fa compone è scontento e triste si fanno i tatuaggi allora in eterico no allora in eterico vedo che lei lui fa sempre la musica con l'alchimia ok e lei rete ricco e come se prendesse questa energia della musica con l'alchimia e la distribuisce tutto intorno c'è come se lei prendesse con una bacchetta ti dico in eterico prende questa creazione e la spalma intorno a loro per chilometri chilometri questa è l'immagine energetica che mi viene va bene ipotizziamo creiamo una linea temporale fittizia oggi sono piena di invenzioni e facciamo finta che milo in questa linea temporale fa un corso di ipnosi che glielo faccio io quindi un corso di ipnosi fatto bene pulito dove non si fanno minchiate eccetera lo seguo sono a casa sua facciamo delle prove gli spiego delle teorie e bla 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 milo safari ipnosi in questa linea temporale stiamo creando milo sta con la sua fiamma lo mette in ipnosi e la sua fiamma con il consenso della sua fiamma quindi la ps la stessa milo nel conscio alla possibilità di parlare alla propria anima così come io faccio con te adesso che cosa vuol dire cosa comporta questo c'è anche la ps non ha segreti nel senso potrebbe svelare qual è la soluzione per non in carlo per non reincarnarsi più però siano i codici del gioco sì però non è detto che li dia nel senso che non può mentire nel senso che parla a se stessa faccia dirtelo non ha intenzione neanche non ha intenzione neanche di mentire ok però di te magari non non da tutto il codice perché quello che vedo io è che può essere all'inizio dell'esperienza con la fiamma e quindi una parte di esperienza necessaria ok quindi potrebbe dire cosa fare per arrivare alla fine ma non da c'è non c'è la scorciatoia ecco ecco quello volevo dire no milo mettendo in ipnosi si dimmi dimmi e quindi magari ti dice esattamente in concreto cosa fare per arrivare alla fine ma non ti non ti fa saltare step perché quella c'è una parte che è fondamentale perché la parte della vita attuale di milo e la fiamma sì esatto perché se no anche la fiamma non riesce a comprendere cos'è veramente l'attualità per tornare al 1 senza un pezzo senza quel pezzo lì che è fondamentale diciamo che milo con il fatto che una perla fidanzata pure la fiamma pure e sa fare l'ipnosi a tanta roba per le mani se potrebbe capire tante cose di se stesso dalla viva voce della sua fiamma se circa la propria ps potrebbe capire se o decidere con la propria ps se incarnarsi nuovamente o finire il gioco alla fine di queste esatte non è esatto quello non risolvendo il gioco subito perché è poco senso sia in una posizione di vantaggio vivite la no è esatto esattamente no anche con lunga vita nel senso godita alla fine in fondo semmai molto bene e che cosa può fare una fiamma che mette in ipnosi la propria fiamma per attirare altre fiamme abbiamo visto tre categorie le fiamme risolte categoria 1 le fiamme indecise ma di fatto risolte categoria 2 solo una questione di tempo le fiamme un po così sperse una addormentata l'altra molto agitata categoria 3 beh milo è una 2 o non è una 1 non è certo ma direi la 2 no no direi la 2 è una perla cosa vuole fare per la casa potrebbe dire che tanto spaventa udino potrebbe dire alle altre fiamme delle frasi che accendono delle lampadine più chiare quello mi viene con le 16 anche anche sì sì comunque sa esattamente cosa deve arrivare alle altre fiamme e quindi trova la via per farla per far arrivare il messaggio ecco anni fa è stata prodotta una qualche anni fa è stato prodotto una una canzone flames di sia se non sbaglio con bob sinclair un connubio il video va fatto schifo da da morire totalmente scollegato dall'argomento insomma magari una cosa mia personale una roba tipo kill bill senza secondo me senza capo né coda che che senso ha avuto quella canzone finalmente si parla di fiamme e si brucia come dire il titolo per evitare che qualcun altro riesca con loro lo stesso argomento in un contesto anche commerciale no quindi di fatto è accoppiando non puoi non puoi nesci allora ci vedo anche allora dobbiamo dirlo in qualche modo a qualcuno il messaggio arriva ma non rendiamolo troppo chiaro perché il loro scopo è comunque non farci evolvere no quindi ho visto proprio che se dobbiamo dirlo ci sono dei messaggi all'interno della canzone ma lo facciamo in maniera c'è il resto lo mettiamo lì molto così molto senza dargli importanza in maniera tale che non si sveglino troppe persone ecco vedo questa cosa fa e mi lo potrebbe usare la musica per divulgare messaggi che vanno in questa direzione perché sono così importanti questi messaggi allora perché l'unione delle fiamme è la forza vera è la forza quella più potente che è quella dell'amore incondizionato e quindi fa sì che appunto come dicevamo prima le interferenze facciano siano quasi impossibilitate ok quindi che perdano quasi completamente la loro forza quindi più fiamme si uniscono e più forti più forza c'è e quindi più libertà di evolvere perché le interferenze fanno sì che le nostre vibrazioni rimangano basse perché se alziamo le vibrazioni noi impariamo usare il cervello sempre di più sempre di più sempre di più fini poi arrivano al cento per cento che torniamo a essere uno e torniamo a essere l'assolgente quindi le fiamme hanno questa forza hanno questo questo scudo e questa potenza più fiamme si incontrano più la forza diventa esponenziale e più le interferenze perdono la loro loro sostentamento abbiamo bisogno di andare al cluster faccio un giorno comunque no vediamo potrebbero anche esserci dei contratti a se li vuole tolto io vuoi togliere sì 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 non mi fa sì con la fara con lui per dire non lasciate lì lì ma per portare definitivo allora ci sono sono pochi sono meno anche delle vite non so alcune vite rientrano nello come se le avesse accorpate non so viene da dire così sul tipo 150 più o meno e ogni vita è un fiore tipo potrei dire di legno ma fatto come se fosse come se fossero come se fosse uno schizzo fatto a tipo fulmini c'è è un fiore fatto uno schizzo di disegno fatto tutto un po spigoli ogni ogni contratto è stagliato ecco ogni contratto è un fiore così si vuole tenere no no ok allora li eliminiamo tutti mettiamo una data non qui dimmi se lo sa creare come lo crea se è ok molto potente adesso bisogna vedere come l'avatar si c'è 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 ha solo il bordo c'è quindi dentro è come se vedessi il lavoro la rinava se come se fosse però un'informazione di dati e all'interno è vuoto quindi non c'è di fatto esatto ma è tridimensionale o bidimensionale quindi un guscio tridimensionale o è un outline un burro di dimesso è un bordo si bibi forse non proprio appena spesso così appena appena quindi come se fosse un controllo il biscotto esatto pure la formina la fornita a formina del biscotto oppure della spiaggia bene eliminiamo ad eterno momento permette l'ad eterno ma mandiamo uomo energia ad abbracciare rodino che quello se non abbraccia qualcuno mi mi si problematizza no eh no vai descrivermi quello che vuoi quello che vedi quello che ti pare allora l'interessa cina quando l'hai detto dino fatto mamma mia io di nuovo arrivo a quello buon cione così un tossire che muovo il canto ma vedi che sono proprio con se fosse di 2 minuti ok si sta dissolvendo oggi non adesso sì e alla volta che è successo ha già buttato nel portale definitivo e adesso la d'eterno ok non c'erano entità non ci sono nemmeno adesso no c'è quel grigio magro ma anche di falconiforme che ogni tanto entravano ci sono ancora no la mentita l'entità mentale 1 c'è ancora no la collettiva cannabis una commissione c'è niente la il potere diciamo interferente di alcuni suoi tatuaggi per gli altri c'è ancora perché per sé no non c'era no adesso non ci sono dipende dagli altri quindi se lui mette quell'energia verso l'esterno se l'altro la coglie la coglie ma alcuni suoi tatuaggi sono molto visibili quindi quelli soprattutto i due tutto molto visibile come allora in quel caso lì allora diciamo l'esperienza dell'altro no c'è li vede è così cioè se se si aggancia l'energia l'aggancia lui e boh ma se lui mostra i suoi tatuaggi diciamo prendo il canale energetico di quel tipo lì allora è lui che apre il canale capisci cosa intendo dire quindi se è lui se lui non lo apre non succede niente no ma meno che l'altro già non ha la sua esperienza no ma che lo collega ecco nuova frequenza intanto chiamiamo la fiamma facciamo un esperimento nuova frequenza di milo 459 miliardi ok vabbè e nuova frequenza si dà la mano alla fiamma e poi si ri stacca però è 821 miliardi ok si riscontrino alzarsi però chiamare consapevolezza non è influito la cosa sulla consapevolezza questo esperimento vero quando no stessa cosa con la consapevolezza nuovo livello 286 e da quando dalla mano alla fiamma 421 la doppia praticamente psp e basta si stacchi di nuovo 67 33 va bene cervello 10 7 11 5 si attacca la fiamma e dice 4 15 2 aumenta 90 19 8 si è stabilizzata 19 8 enti se si ristacca che capacità mediani che può avere a 20 quindi che capacità mediani che può avere milo con la fidanzata fiamma se avesse una fidanzata fiamma tele cinesi scrittura del pensiero se poi livello lì quelle due lì la fidanzata anche la fiamma anche se lì c'è tutta la parte a pie che deve diciamo arrivare a un certo livello no quindi di allenamento ma è solo questione di allenamento che se ci si mette ci arriva ovviamente non nel momento in cui capisci che c'è un percorso un allenamento un tutto è meglio da te se la storia anche no non è che stiamo parlando di x-men quindi bene 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 e messaggio finale abbiamo finito intanto possiamo tutte le informazioni a tutti quelli che la vogliono nel cinema le 300 perle tutti tutte le fiamme il clan di milo il clan la fiamma la ps vuol dire a milo continua allenarti così continua da allenarti sulle vari tipi di dice non è che c'è tanto da sperimentare più adesso è proprio questione di allenamento quindi allenati tanto con l'energia della musica l'energia alchemica l'energia che senti del tuo corpo e anche quella esterna degli oggetti quindi allenati allenati centrandoti sulla tua energia se dice proprio non c'è più necessità di sperimentare di cercare adesso fermati allenati bene continuiamo con il nostro per concludere con il nostro transumanesimo energetico prendiamo uomo energia lo moltiplichiamo per 300 milioni e prima di farlo però gli mettiamo dentro l'informazione di questa sessione tutto quello che abbiamo detto relativamente alle fiamme e siccome sono 300 milioni li mandiamo ogni uomo energia a fare toc toc alla porta di ogni fiamma categoria 123 queste informazioni fanno proprio per te ovviamente chi apre poi la fiamma che apre la porta si piglia un grande abbraccio ovviamente però si piglia per le informazioni quindi si piglia pure dell'informazione e dell'energia no abbiamo creato clonato vedi che bisogna clonare uomo è certo che allora bisogna clonare hanno ragione loro bene come vedi milo è in eterico si è messo sei tipo posizione dello yoga ad allenarsi ma è che vola sì esatto sollevato da terra con l'era celebrato gli occhi chiusi si allena usate la volgarità ma mi è scappato possibile e chi è il più contento i due più contenti in ordine di importanza prima il più contento poi il secondo nel cinema più entusiasta più allora la mamma e poi un altro parente che ha fatto la diretta però è come se il papà volesse essere entusiasta più di loro no però no a livello energetico loro due sono i più entusiasti la mamma e però l'intento era del padre io infatti vedevo il padre che era stato un po orgoglioso sì bene il prossimo medium sono io basta basta voi siete finite bene abbiamo finito non c'è nient'altro che cosa dobbiamo dire d'altro buone fiamme a tutti finiscono qua la registrazione brava elena ciao grazie a tutti